Noemi Cantele Non è un obiettivo a cui ci tengo e forse anche la mia portata Non ho ancora studiato bene il percorso, tutte le tappe Conosco, ne ho studiato la tappa, soprattutto il prologo di oggi Perché per me è una giornata importante Anche perché posso per la prima volta vestire questa maglia E ci tengo a far bene Adesso fra poco vado a provare il circuito e poi vedremo Domenica prossima, altra cronometro, saremo sempre in Toscana Da Ponte d'Era a Santa Maria Monte, finale in salita Altra prova che potrebbe davvero vederti tra le protagoniste Sì, obiettivamente a livello internazionale sono andata molto forte nei prologhi Nelle cronometro corte Adesso a livello di una cronometro come quella di domenica Non so ancora quale sia la mia portata Però è un mio obiettivo e penso di poter far bene